Era stato annunciato uno schema di assicurazione europea contro la disoccupazione ed ecco che Ursula von der Leyen lo presenta con un video, possiamo vedere l'immagine addirittura sottotitolata in italiano, si chiama Sure, sicurezza ed è un po' diverso dalla cassa integrazione in quanto prevede che i dipendenti delle aziende in difficoltà restino all'interno delle imprese magari per seguire dei corsi di formazione in una prima fase, domani era spiegata la copertura finanziaria, però ha detto esplicitamente al Presidente della Commissione uno strumento rivolto ad aiutare le regioni più colpite come quelle di Milano e di Madrid che ha definito spina dorsale dell'economia europea, intanto continua il dibattito di preparazione all'Eurogruppo, come sapete i Paesi del Nord pretendono che le misure abbiano un chiaro obiettivo, Gentiloni dice se si va sul mercato con progetti che tutti ritengono essenziali, un compromesso è possibile, è tutto da Bruxelles, istituisco la linea allo studio.